che c'è da ridere salmai che non sarà affatto contento nessuno merita quello che gli capita non funziona così sai cos'era quell'anello per me sarò anche morbosa ma era la promessa di un morto io invece preferisco essere viva con te guarda che non è colpa mia la spia non ha suonato che cosa quell'affare che si mette a suonare quando inserisci la chiave e ti avvisa che il quadro è acceso io lo so non ha suonato ho solo inserito la chiave non l'ho girata non sono mica stupido puoi dirmi che succede per favore non hai neanche letto il mio pezzo su collo ne citato alle lezioni di arte e ora adul grello scende dalla sua montagna per voi non puoi dirmi neanche una schifosa parola scusi c'è un bagno che posso usare ma certo laggiù in fondo temo che sia troppo in vista grazie alla vostra serie ogni volta che qualcuno mi vede entrare in uno di quelli pensa solo alla berria calda che fuoriesce dal mio sedere non fare la gente con me lenni piantala di cercare di gestire tutto e tutti e comincia a prenderti qualche responsabilità per una volta non puoi venivo qui tiravo una moneta esprimevo un desiderio lo stesso ogni volta di essere qualcun altro tutto quello che avevo è svanito distrutto non puoi capire un amico mi ha chiesto prima che venisse qua quando stavamo per imbarcarci mi ha chiesto ma perché andate a combattere una guerra altrui cosa credete di essere degli eroi tu sei una versione di joan interpretata da un'immagine digitale di annie murphy chi è annie murphy la trama devi considerare che ogni stato ha regole diverse sui matrimoni per esempio in alcuni stati è legale sposare una cugina in california però la legge non fu approvata per una questione di beni patrimoniali quel bastardo è satana ha fatto sesso con un'altra ok non riesco a togliermelo dalla testa capisci sì io lo guardo e vedo altre donne con le passere lui che mette il pisello nelle passere penetrazione è orribile grazie a tutti